Il quadro che emerge dal censimento delle imprese segnala un sistema produttivo in transizione. Circa un quinto delle imprese è impegnato in passaggi generazionali, un terzo ha intrapreso percorsi di sviluppo e questo è un segnale di dinamismo che si è intensificato negli ultimi anni. Da un punto di vista delle dinamiche di meglio periodo abbiamo avuto tra il 2011 e il 2018 un lieve calo del numero di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, ma un aumento di occupazione, soprattutto nelle grandi imprese. Ci sono molte imprese che hanno intrapreso dei percorsi di relazione con l'esterno importante anche sul piano dell'internazionalizzazione, c'è un percorso di transizione digitale in atto e dalle nostre analisi emerge che circa un quinto delle imprese è classificabile come ad alto dinamismo. Queste imprese realizzano circa la metà del valore aggiunto complessivo del sistema delle imprese e determinano una spinta di crescita importante rispetto agli altri segmenti.